Potrebbe mancare poco questione di giorni per il verdetto della provincia di Pavia sul discusso biodigestore di Voghera. La pronuncia del TAR sul ricorso presentato dal comune di Casei Gerola in relazione all'impianto gemello in questo territorio, secondo gli esperti, infatti fa presumere che una decisione sia ormai imminente e potrebbe non essere diversa da quella già prospettata per Casei, ovvero impianto autorizzato con una serie enorme di prescrizioni, 49, che potrebbero rendere antieconomica la realizzazione dell'opera. Rispettandole tutte, infatti, secondo alcuni osservatori, il costo previsto di circa 12 milioni di euro per realizzare l'impianto potrebbe lievitare di oltre il 10%. Se anche per l'impianto di Voghera, contro il quale si era mobilitato un vasto fronte del no, la provincia farà lo stesso, non è ancora dato sapere. Certo, la decisione della TAR delle scorse ore, che ha bocciato la richiesta di sospensione cautelare avanzata da Casei Gerola, Molino dei Torti e Legambiente, secondo alcuni farebbe presupporre un epilogo simile. Di fatto, ad oggi, anche a Casei, dove l'impianto è stato autorizzato dalla provincia e il TAR ha respinto la richiesta di sospensione, non si sa ancora se e quando l'azienda proponente realizzerà il tanto temuto biodigestore.